Google Translator Fondatore dell'Università Ritz-Metai e la Soprintendenza del Consiglio della Chiesa Internazionale del Cognitive Mentoring Chiese e Organizzazioni Autorizzato psicoterapeuta in Stato di New York e Cancelor Clinico Cristiana nello Stato della Florida Egli fornisce molti aiuti e assistenza alle persone, i ministri, gruppi religiosi, grandi o piccoli e anche ai consigli di chiese in tutto il mondo La sua organizzazione può aiutare la vostra organizzazione in molti modi Stiamo cercando per i ministri e per coloro che vogliono diventare ministri Stiamo cercando di collaborare con gruppi di comunità locali e dirigenti Stiamo cercando di formare partnership con le chiese locali e le scuole di tutto il mondo Siamo in grado di aiutarvi a raggiungere la vostra comunità con grande aiuta Il sostegno ministeriale, programmi comuniti, programmi educativi, finanziamento degli interventi, di occupazione e di risorse imprenditoriali e molto altro ancora Se voi o qualcuno che conosci è interessato ad aiutare la comunità e i vostri connazionali Vi invitiamo a contattarci al più presto possibile e di dirigere gli altri al presente bando Cominciamo a lavorare insieme per aiutare il nostro prossimo Anche se il nostro sforzo è soprattutto con gruppi di chiesa Siamo in grado di assistere un leader della comunità o l'amministratore di governo o leader politico in modo simile Contattaci e Togder possiamo cominciare a portare efficaci aiuta e l'educazione per il tuo paese Grazie